Musica Bella a tutti ragazzi Qua è Ronnyman Siamo che oggi con un nuovo video sul FIFA 14 attivati Per fare uno spacchettamento Incredibile ragazzi Ci abbiamo un milione di crediti Apriremo tre pacchetti Da 50.000 ragazzi Tutti per voi 10 like per questo video Cominciamo subito Dobbiamo trovare un top player Però cominciamo subito Aprendo qualche pacchetto da 7500 Ci abbiamo un botto di crediti E vedrete che squadra farò ragazzi Vedrete che squadra farò Salto Colaro Ci abbiamo Colaro Abbiamo trovato Ragazzi farò una squadra Che costa intorno ai 200 160.000 crediti E' una squadra strafita Ve la farò vedere Però lo squadro winter Fosse con qualche cosa Vediamo Cacawa Aiuto Cacawa Mettiamo a vendere il signor Cacawa Di resto scattiamo tutto Non ci serve nulla Ragazzi abbiamo il primo pacco da 50.000 Abbiamo il primo pacco da 50.000 Anzi un altro da 5.000 Visto che porta fortuna Mamma mia Comunque ragazzi Sta Vediamo Ho comprato il mio profono Quindi farò la Farò il Lo sbustamento del pacco Adesso non mi viene Non mi viene la parola Ecco Comunque farò il sbustamento del pacco E ho comprato Anche una webcam Quindi comincerò a fare video Con la webcam Tantissimi like per questo ragazzi Ma quando esce il comino Vediamo cosa esce Questo che sta da voi Non mi serve Via Mettiamo sti Contatti Ne play Mettiamo sti Contatti Da diluviato ragazzi Stai Mi sto facendo questo video Sono mezzanotte Sto facendo questo video Se esce qualcuno Perché te mi metto a urlare Come una vacca E adesso Andiamo a aprire Il pacco Da 50.000 Credati Di giocatori più forti Desiderati 12 giocatori Tutti oro E tutti rari Vediamo ragazzi Vediamo Mamma mia Mamma mia Sobricitato Soltiamo Soltiamo Nooo Ah Gomez Lewandowski Alguimiliano David Luiz Costa troppo Allora Allora Ehm Quanto fa questo David Luiz Del Paris Saint Germain David Luiz Del Paris Saint Germain David Luiz Del Paris Saint Germain Costa 25.000 Oh vabbè Brilliant Bello Bello Dai Normale Vabbè Mettiamo Nel club I giocatori Che poi dobbiamo Vendere Anche Anche Aldi Milano Lewandowski Per quanto ti vede Per quanto ti vede C'è anche Fodoski Domazio Ormai In questo Un pazzo Era Climbo Se questo Di rischio Tanto Tanto verde Tanto verde Ragazzi Tanto verde Uno metà Vendere io Altro per quanto 50.000 Abbiamo subito 12 giocatori Tutti in area Tutti in area Io però voglio un verde Io voglio close Voglio Messi Voglio Robben Dai Ciabbi Alonso Ho trovato Ciabbi Alonso Ho trovato Un giocatore Lavorale Ciabbi Alonso Lighe Cabullo Sania Felipe Luiz Benatia Il resto Fa uno schifo Benatia Fa più Sanio Benatia Stati dubbi Andati Avremo L'ultimo pacco Però prima Andiamo a spattacare Nel numero 5.000 Uno da 5.000 Ragazzi Perché Bisogna spattacare Perché da 5.000 Sono più bagati Del Mondo Fai Spattiamo Speriamo Speriamo Non è questo momento Perché c'era qualche Dopo Nel Pistano Tre Abbiamo Uno da 7.500 Tutto Veloce 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 Non so Fare Pa 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 Salto Ancora Ragazzi Abbiamo L'ultimo pacco Abbiamo L'ultimo pacco Apriamo L'ultimo pacco Farò anche Uno spacchettamento Dei mondiali Ragazzi Adesso ci abbiamo Un botto di crediti Vi darò Anche un sito Dove potrete Comprarli A pochissimo Prezzo Ve lo darò Non In questo video Forse In un prossimo video Però lo vedrò Davvero Costano pochissimo Ho comprato Un milione Di crediti A 15 euro Comunque Proprio L'ultimo pacco 50.000 50.000 50.000 Bye Ma che pacco Di merda Turan E Liorento Questi ceni Vigliano Cavalier Ne abbiamo ancora 5 ragazzi 527.000 Punto per Abbiamo 830.000 Prediti Parcchetto speciale Questi tutti Non lo vedete Con lo schifo Non lo vediamo Non lo vediamo Non lo vediamo Proprio da 5.000 Super sbagliato Arriviamo A 800.000 Un premio Ragazzi 200.000 Prediti Di pacco Opening Minda Scarponi Non lo vedo Scarponi Scarponi Non ci serve Miglia Fanno piena di roba Piene di ventratti Piene di schifazze Maia Sta piapendo troppo Però so Card Ragazzi Fa davvero card Uff Molino Non riesco a capire Solo perché Non riesco a capire I giocatori Fortissima Nanno in bielo Non riesco a capire Questa cosa Comunque Scarpiamo Vigliano 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 Ancora 3 Perché dire 7.000 E magari 1.10.000 Saziamolo Niente Occcbc Da Shishi Vigliano 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 Non costa Non costa un cazzo Però l'abbiamo trovato In un pacco da 7.000 E vai Chi se ne deve di quanto Costa 10.000 Cos'era Nalla 1 L'abbiamo trovato Abbiamo trovato Un giocatore verde L'abbiamo trovato Un giocatore verde Il tuo pacco da 5.000 Anzi Io tu avevo poco Da 7.000 Un giocatore 5.000 Bagadino Bagadino Bagadello C'è Fa trovare Un bel barbello Vediamo Un barbello Mi sembrava Cristiano Ronaldo Stavo urlando Mi sembrava Cristiano Ronaldo Madonna Stavo per diventare Un prete Ragazzi Per questo Che è tutto Abbiamo trovato Garai verde Il nuovo Nel momento Questo Ragazzi Costa 15.000 Crediti C'è Quello Toz Che Costa Sui 60 50.000 Vabbè 15.000 Crediti Lei è Niente Ma non è Spagliare Perché Che è un Dicolo E 186 In teoria Quello 86 Che costare Più di Quello 85 Poteva Costare 30.000 Mamma mia Comunque Ragazzi Per questo Video Tutto Vi saluto 10 Like Farò Un altro Spacchettamento Ve lo prometto Appena c'erano i pacchetti Lo faccio Per questo video è tutto Adesso Ci siete Alla prossima Bella